So benissimo chi è lui, Jader, non c'è bisogno che me lo dice Madonna mia il cielo la prigioniera non merita alcuna pietà per essersi unita a un fuorilegge avrebbe potuto unirsi a me Lord Cucca ti ha richiesto, devi prendere parte all'esecuzione della ragazza che razza di spreco grande Gav i ceppi di cristallo sono difficili da aprire ma te li tolgo in un attimo, tranquillo dov'è Jill? è in cortile merda sbrighiamoci gli imperiali hanno suonato la ritirata e lasciato il castello ma le sale brullicano di uomini di Cucca ci penso io io salirò in cima e farò il giro sul retro vedi di fare in fretta mi ha portato l'equipaggiamento quasi dimenticavo arriva e se ne va così, patan resisti Jill, sto arrivando no minchè si ammazzano Jill impazzisco devo raggiungere il cortile vedi mi stanno curando apposta comunque si vabbè i boia vengono spesso rappresentati in questa maniera no? tipo incappucciati, col falcione metto nudo madonna come mi stanno curando a bestia c'è veramente un altro scontro un altro boss fight spero proprio tu abbia un piano Clive altrimenti siamo tutti fregati c'è Torghal pronto vai come? scusa che abilità che abilità è mai questa di Torghal? che angelo cannone scusa da quando è che è in grado di fare questa cosa? ma che cosa? madonna mia gil puoi camminare scusa ma da quando è che Torghal può fare queste cose e non le ha mai fatte? che cazzo? ma che cazzo è successo a Torghal? ma guardalo che bello molto gentile è stupendo è come se si fosse manifestato anche lui è Ferry tipo sei diventato tipo Ferry esatto mi spiegheresti che cazzo ha fatto il tuo cane esattamente esattamente quello che vorrei sapere anche io grazie c'è Gav mio padre torale c'è incredibile a me ricorda Ferry da un lato oppure gli hanno oddio Carbuncol no perché non non è da Carbuncol mi ricorda molto Ferry ma poi è bellissimo tipo con tutte non credo non credo due senza tre che vengano pure non credo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Noi li fermeremo qui Va bene Ma state attenti Sì ma in tutto ciò Torgal non me l'ha notata la spiegazione Del perché è diventato così Allora qui non c'è nulla vero Madonna c'è lo scontro con Koopka adesso Qua non so se già mi appare Ecco vedi già qua mi appare Torgal Di fedele americo di Clive è felicemente protettivo Quando ne confronti Quando Gila ha rischiato di morire nel cortile di Castel Rosalith Qualcosa si è risvegliato in Torgal Trasformandolo in un essere simile a un Eikon Quindi veramente è diventato Ferrir Si è trasformato tipo in Ferrir Ma Ferrir non era un Eikon però Cioè non è una Sammon È più Più un mostro Cioè Oddio Cioè l'unica cosa che assomiglia è Carbancol Che possa assomigliare a un Che possa assomigliare a Comunque a un cane O comunque Vabbè Carbancol non è mai stato tipo Rappresentato come un cane Ma più come una sorta di animaletto dolce e coccoloso Però se parliamo di Eikon Dovrebbe essere Carbancol quello che gli assomiglia di più Eccoci Sei in ritardo Ci sono stati problemi Mi stavo solo godendo la tua ospitalità Che soddisfazione Sei venuto di corsa a difendere il trono di tuo padre Lord Rosfield Il Gran Ducato di Rosaria Un regno privo di sovrano Esercito E popolazione Un vero e proprio reame Di polvere Non vedo Alcun trono che debba essere difeso Oh spacca dio No Ora basta coi tuoi giochetti Kupka Dimmi solo che cosa vuoi La testa di Seide Ecco che cosa Immagina il mio disappunto Nell'apprendere che è morto per mano di un altro E il mio enorme sollievo Nello scoprire che tu hai preso il suo maledetto nome Il tuo maestro ha ucciso Benedict Arman Profanando nel suo corpo Hai ferito Che zoppico Come combina Se sceglie di portare il nome di quell'assassino Allora risponderai anche dei suoi crimini Gli unici crimini Di cui risponderò Sono i miei Seed ha fatto tutto il possibile Per salvare quella donna Ma lei ormai era irrecuperabile Quindi ho fatto ciò che non riusciva In verità sono stato io Yugo Sei stato Tu 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 L'hai uccisa Esatto Mi sa che non doveva dirglielo Allora sono veramente fortunato Il massimo a cui ambivo era Uccidere una persona a lui cara Proprio come lui ha fatto a me Ma a quanto pare Mi sbagliavo Ora avrò la mia vendetta Noi condividevamo un sogno Io sarei divenuto il re del mondo E lei invece è la mia regina E insieme Avremmo governato Come gli dèi che siamo Ma tu hai infranto Quel sogno L'hai ridotto in genere Madronne Ascoltami Rosfield La pagherai cara Per ciò che hai fatto Giuro che ti farò pezzi Con le mie stesse mani E tu invece Quanta gente hai ucciso Quanti sono i sogni Che hai infranto Non sei l'unico Che ha visto il proprio mondo Cadere a pezzi intorno a sé Da me non riceverai pietà Kupka Né pietà Né tanto meno Questa scena si è vista Nella pubblicità È tempo Che impariate Cosa succede a quelli che osano Intracciarmi Io ti ammazzo E' bello che lui mi fa i parry Ho visto Mi fa i parry Oh la host Quella che si sentiva Nella pubblicità Tututum 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 Quella dove si trasformerà in titano pure E io in Ygritte Buona la Tekken che tipo si spaccano gli ambienti e cambia arena dove combatti Il mondo ha scelto Sono nel mio elemento Non puoi sfuggirmi No La Terra sarà sempre il mio dominio Non puoi far coletto Oh il Perry Mi ha fatto lui il Perry Bellissimo Non puoi far coletto chieda che stronzo no pensavo di averlo breccato e invece se ne sta scappando eh gli avrei fatto molti più danni a questo mannaia no 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 madonna mia che moonset come per i tuoi antenati il tuo viaggio finisce a quello ma vanna che bella boss fight però no 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 oh merda no 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 beccato che fosse morto frammento della terra la manifestazione del potere dell'aicon titano questo frammento di cristallo è pesante come una biglia ed emette un leggero ronzio si è avvicinato all'orecchio eh ma non è finita qua eh no 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 la mi ha tagliato le mani porca troia no le mie mani le mie mani figlio di troia eccolo ah gli sta prendendo il potere di titano finalmente si ma non sta perdendo neanche sangue tocca autorizzarsi la ferita subito ah guarda che c'è questo è lo scagnozzo del re di Walud con un pugno l'ha addormentato l'ha chiamato per nome cioè per come l'ha chiamato ultima com'è possibile sta cosa come fa a sapere che lui è mitos l'ha chiamato mitos mi domando chi li abbia invitati ma questa non è la sorpresa più strana del giorno direi dov'è che hai imparato a farlo Torgal? no non vuoi dirmelo? beh come vuoi Gav dobbiamo trovare Clive giusto scusami oh no no minchia meno male te ne eri perso uno che sollievo anche per me ero così vicino se non fosse stato per il mio dono l'avrei finito la cosa importante è che tu ne sia uscito vivo quando sono arrivati i realisti? subito dopo che sei entrato proprio quando pensavamo di poter sconfiggere Titano ecco che arriva Odino ma comunque non ci preoccupiamo no hai visto quello che ha portato via Kupka? beh quindi tu credi che siano venuti qui per salvarlo? non ho idea di quello che sta succedendo ma ogni minuto che passiamo a scervellarci quel bastardo si allontana di più quindi che facciamo? eh Jill sta male adesso sono stanco anche tu direi e poi con quello che ha passato Jill pensiamo più tardi a Kupka va bene? sì d'accordo così magari riusciremo a risolvere il mistero del tuo cane magico ehi come ti senti? torniamo a casa? quello l'ha chiamato Mythos io ancora sto pensando a quello che con un pugno ha praticamente distrutto Kupka e poi l'ha chiamato Mythos cioè l'ha chiamato con il nome diciamo originale o comunque con il nome vero chiamiamolo così Rosa del Crepuscolo ok per ora possiamo tornare soltanto qua l'ha chiamato Mythos e tra l'altro Mythos è una un bar di casa mia dove fanno granite spettacolare che è dove abito io si chiama Mythos guarda come sei conciata sei messa peggio di questo posto e questo lo chiami prendersi più cura di te stessa? basta con le scuse vostra signoria ti ordino di riposare bene riposerò è bell'idea questa anche se ultima non so effettivamente se potesse cioè se abbia effettivamente di un nuovo portatore perché Joshua l'ha preso dentro di sé però non è un'idea sbagliata se ci sono mai stati altri amici a quattro zampe come lui Biblio avrà letto qualcosa in merito ma quello che voglio sapere è cosa succederà adesso Torgal ci ha salvato le chiappe certo ma non vorrei che facesse la fine di Jill giusto dimmi se scopri qualcosa certo lo stesso vale per te quindi per ora Jill non mi accompagnerà più e quindi Torgal si trasforma perché il trasformato Torgal diciamo aiuta pulmina c'è il sereno il potere della terra sì sì Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Acon Titano sintonizzarsi con Titano non solo cambia l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Acon come pugno possente un colpo singolo che aumenta la potenza quando viene caricato i dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale talento Titano il talento dell'Acon Titano parata titanica può essere usato per respingere la maggior parte degli attacchi in arrivo utilizzando R1 che sarebbe appunto subito dopo utilizzando R1 subito dopo una parata precisa con il giusto tempismo si eseguirà un contrattacco devastante però aspetta quindi cioè quando paro posso attaccare o è aspetta vediamo se ah ecco infatti questo è il Perry praticamente allora mi dispiace per Ramù veramente mi dispiace tantissimo mi sono divertito utilizzare Ramù ma ora si va di ora si va del mio cucciolotto ok queste sono le stesse tecniche che c'erano tra l'altro nella demo però io come abilità ecco qua Titano incanalato sembra sempre una bestemmia ma non è una bestemmia vi assicuro non è una bestemmia allora furia terrena che sarebbe l'ultimate costa 1800 il che è un male ecco io voglio assolutamente questa io voglio assolutamente questa abilità e devo potenziarla a bestia perché questa è l'abilità che mi piace di più di tutti di padroneggiarla non la posso padroneggiare mannaggia la miseria padroneggiarla sarebbe stato comodissimo in realtà perché mi avrebbe permesso è vero potrei resettare in realtà potrei resettare in realtà i punti ridistribuirli allora facciamo una cosa sì allora ripristiniamo tanto Ramù non lo utilizzo per ora quindi possiamo fare qui fiamme della finisce qui utilizziamo raffica aerea arrocco della torre non mi interessa questo va bene questo padrone allora aspetta un secondo sblocchiamo questo sblocchiamo questo potenziamo questo vabbè padroneggiarlo in realtà in realtà padroneggiarlo potrebbe essere carino perché padroneggiarlo mi permette di utilizzarlo anche con altre diciamo con altre salmon solo che vabbè le altre salmon in realtà mi interessa utilizzarlo in realtà no quindi per cui direi che va bene così allora io poi avevo l'abilità di ifrit che è questa qua e potenziamola poco fa non mi interessa perché se io faccio l3 mi apprende tutte abilità a caso che non mi interessa questa invece la dobbiamo potenziare questa 2300 vuole puttana miseria questa 2005 allora questo ovviamente lo dobbiamo fare i balzon vabbè questi in realtà non è che mi interessino più di tanto però prendiamoli perché mi servono cioè sono cose di base alla fine per cui va bene prendiamoli e per ora non metto più niente in modo tale che poi io posso potenziarmi più che altro voglio potenziare prima le fiamme della rinascita piuttosto che la furia terrena perché tanto io di qua utilizzerò principalmente questo che sarebbe i pugni furiosi che è la tecnica che mi interessa di più allora qui abbiamo no combustione e fiamme della rinascita qui abbiamo lacerazione e poi raffica aerea mentre invece qui abbiamo pugni furiosi e poi qui furia terrena ottimo 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 adesso il setup è perfetto nuove cacce addirittura a una sola pango omicida a addirittura rango a sta iniziando a fare interessante non ci sono side quest cosa che mi piace parecchio perché vuol dire che possiamo andare un po' più avanti con la storia come posso aiutarti oggi allora fammi vedere qua allora mappa geopolitica ecco Kupka fa la sua mossa allora noi eravamo arrivati qua esatto Kupka fa la sua mossa che praticamente parte da zona di drago arriva a Rosalith mentre noi invece che poi passiamo da questo lato e siamo praticamente contro Kupka qui invece rispiegamento del dominio cristallino assedio di Rosalith e poi qui abbiamo praticamente il combattimento contro Kupka mentre invece il regno di Walud è spuntato da qua sotto ma come ha fatto a spuntare da qua sotto l'unica nazione Walud la capitale che è dominata da Udino il quale ambiente il quale sempre stia prendendo tempo per considerare la sua prossima mossa sorprendentemente l'incursione dell'impero di Sunbreak nel dominio cristallino non ha provocato alcuna immediata risposta da parte del re il quale sempre stia prendendo tempo per considerare la sua prossima mossa ecco perché infatti c'è la repubblica che sta attaccando l'impero l'impero però non sta attaccando nessuno e quindi il regno di Walud che è riuscito praticamente a venire da qua dove qua praticamente è tutto territorio della repubblica come hanno perché il regno di Walud è qui cioè era qui ora non mi appare neanche più qui tra l'altro il regno di Walud quindi si stanno muovendo benedetto dalla magia Torgal allora noi fino a poco fa allora eravamo qua così esatto dominante di titano e ora siamo qui quindi Kupka cattura la dominante di Shiva loro si scontrano e poi qui c'è un evento assorbe il potere di titano ecco Torgal benedetto dalla magia benedetto dalla magia però benedetto dalla magia soccorre e dice qua il fatto che soccorre cioè il regno di Walud soccorre il titano però vedi lui lordo comandante dei cavalieri reali vedi lui ancora non sappiamo niente lui l'abbiamo visto soltanto all'inizio del gioco che praticamente ha detto due parole precise nel fatto che il regno di Walud non avrebbe aiutato la repubblica di Dalmekia nello scontro contro i sangueferreo e basta cioè dopodiché non sappiamo più niente di lui non sappiamo praticamente più nulla allora dovrei parlare con Otto ma io prima di parlare con Otto ci sono delle nuove lettere che dobbiamo andare a leggere e parlare col tizio della della lore per vedere per aggiornarlo vediamo se c'è magari qualche aggiornamento Blackthorn no non si è aggiornato Blackthorn io non posso costruire nulla di nuovo neanche col frammento di titano mi fa costruire un'arma nuova strano ecco vedi biblia ricerca se libri storgan sì ha aggiunto i tomi ok vabbè poca roba giustamente allora assedio di Rosalith questo l'abbiamo visto Hugo Kupka Clive accetta la provocazione riesce a sconfiggere Kupka in battaglia mostrandogli ammozzandogli le mani durante lo scontro ma prima che Clive possa sferargli il colpo di grazia Hugo viene portato via da un misterioso uomo di walud che sarebbe appunto il lord comandante torgala ancora non sappiamo torgala ancora non sappiamo nulla dice che somiglia un icon però la descrizione parla di benedizione della magia quindi non lo so ho avuto una sorta di risveglio ma che tra l'altro questa tecnica che ho sbloccato con titano ho imparato ad utilizzarla durante la demo perché io giocando la demo di fantasy 16 mi sono imparato appunto come sfruttare al meglio quest' attacco perché praticamente l'attacco di titano come funziona possiamo utilizzarlo normalmente per fare una combo con i pugni ma se la utilizziamo per bloccare un attacco quindi per fare un perry cambia l'animazione e diventa più forte quindi diventa figa poi tanto ve la faccio vedere perché tanto ve la farò vedere io ora giocherò praticamente solo con titano ormai cioè io praticamente gioco solo titano allora ah ecco pensavo che ci fossero manco più le cacce ha detto come sono sparite le cacce allora non ci sono missioni secondarie in realtà in giro il che completato missioni nelle vicinanze qui non ci sono missioni non c'è nulla va bene allora possiamo andare avanti per ora non tutti i nobili ah c'erano le lettere che dovevamo leggere sono arrivate le lettere nella camera di di clive credo che non ci sia una corsa un po' più sostenuta certo che non ho niente da temere da Kupka l'ho suonato come una zampogna ritorno a casa mi scuso per quello che è successo a Rosalith tremo al solo pensiero di cosa sarebbe accaduto se tu Gav e Torgal non vi foste battuti con tale feroce ancora una volta eravate lì quando avevo più bisogno di voi e di questo vi sarò per sempre grata vedere la città che un tempo definivo casa ridotta in cenere e macerie mi ha colmato il cuore di distezza ma il tempo di guardarsi alle spalle è passato ora dobbiamo concentrarci sul presente i nostri ricordi dovranno aspettare quando sarà tutto finito Jill cucciola Jill va bene andiamo da 8 continuiamo andiamo a vedere che cosa è successo nel frattempo c'è il lord comandante incredibile veramente plot twist pazzesco anche perché l'ha chiamato Mythos c'è il fatto che lui sappia che Clive è Mythos è incredibile dal punto di vista di trama 8 è un buon momento uno come un altro come sta Jill è stata meglio Taria si assicurerà che riposi a dovere bene notizie sulle attività di Cucca Vivian cerca di seguire le sue tracce ma gli elementi che ha sono pochi abbiamo inviato dei gufi e gli spezza maledizioni e gli altri amici a Ovest chiedendo loro di tenere d'occhi i movimenti insoliti nessuna pista ma è questione di tempo bene fammi sapere che scoprite eccolo lì oddio allora Clive sempre impegnato a salvare il mondo? com'è chissà Myth quando sei tornata? poco fa che ne è dei tuoi studi? rimandati visto che Yugo Kupka ha invaso Rosaria tutta Canber è in subbuglio per lui è impazzito è fuori controllo i prossimi saremo noi prova tu a concentrarti in un tale caos va bene adesso figlia è la figlia di Sid? comunque già che sono qui ti vorrei chiedere un favore perché Sid aveva una figlia non puoi aspettarti che io ti prego accontentala mentre saremo impegnati a rintracciare Kupka tu avrai madonna che capelli lunghi che ha professoressa da quando non vedevo questa faccia come mai non si è incollata un tomo polveroso era così finché non ho udito un familiare cinguettio la tua esuberanza è sempre una ventata d'aria fresca che riesce tutte le volte a spazzare via il mio ultimo barlume di concentrazione vista così senza la coda enorme sembra Ashley di Resident Evil 4 mi sembrava lei beh Clive hai sentito Vivian ci vediamo in magazzino quando hai finito ehi aspetta pentata d'aria fresca più un uragano direi cioè non lo so effettivamente chi sia ma credo che sia la figlia di Seed a sto punto perché noi abbiamo saputo che Seed aveva una figlia Otto ce li hai i miei Gil? eh? ma di che parli? il mio compenso per aver accompagnato Mead che avresti pagato tu a quella piccola il magazzino mi chiedo che cosa abbia in mente ecco Midadol no Midadol Telamon studentessa di ingegneria all'università di Canver come molti studiosi dei gemelli è esperta nelle tecnologie moderne e dei decaduti e mira a porre tali conoscenze al servizio del rifugio è la figlia di Seed perché Seed si chiamava Seed Telamon se non mi ricordo male oddio forse sto confondendo i nomi sì Seed era Seed Telamon che è sua figlia veramente aspettate cioè allora io mi ricordo che il cognome di Seed era Telamon quindi lei è veramente la figlia di Seed ci ha azzeccato sei qui per un'altra delle mie lezioni? l'ho incontrata in strane circostante l'ho incontrata in strane circostante in strane circostanze il caso di dire fu durante il mio periodo all'università ero tornato in classe per recuperare alcuni appunti e le ho trovato mid accoccolato sotto il leggio intento a lavorare a non so quale progetto a lume di candela si è scoperto che aveva fabbricato una chiave e che usava la mia classe come suo studio segreto un luogo tranquillo per sfuggire sui tutori troppo zelanti naturalmente le chiesi di andarsene ma mid è mid e non accetto un no come risposta prima che me ne rendessi conto non solo le permise di continuare i suoi studi a nottefonda ma accettai persino di prenderla come allieva anche se me ne pentivi presto il suo rifiuto di piecarsi all'autorità valeva anche per le mie lezioni gli chiesi se era questa la mia ricompensa per anni di faticosi studi essere irrise e tormentata da un adolescente sporca di grasso che sembrava gioire del mio sconforto eppure il tempo passato insieme non fu del tutto spiacevole se non altro perché fu lei a portare alla luce il complotto ai miei danni e a far sì che tu mi conducessi al sicuro e così ho finito per rifugiarmi nella vostra base operativa proprio come lei aveva fatto con la mia ah hai visto quindi lascia che io ti istruisca esatto vedi Sidolfus Telamon vedi Miditol Telamon quindi si è veramente sua figlia è giusto allora vedi è la figlia è la figlia di Sid adesso però sono curioso di sapere chi è la madre perché essendo bionda così non credo sia la figlia di Benedicta perché non credo però di chi sei figlia senza fretta ho avuto da fare Mid verrò al punto quella stanza diventerà come il laboratorio che avevo da mio padre Mid ma sei appena tornata e? è già da un po' che ci penso papà diceva che era un bravo ingegnere mi ha insegnato quello che sapeva e mi ha mandato nel Canber a imparare il resto era il suo sogno che sfruttassi i miei studi per il bene della causa ma se sono a scuola chi aiuto? basta con gli studi è ora di mettermi all'opera io so di poter aiutare queste persone e voglio farlo bene 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 Sid sarebbe fiero di te d'accordo dirò a Otto che resterai qui lo sapevo per questo ecco una lista di lavoretti per me certo oh che cosa vuoi che faccia mi servono equipaggiamenti e materiali per prima cosa i progetti di ciò che mi serve e i materiali che mi occorrono al resto ci penserò io mi serve solo un benefattore che mi procuri tutto tranne il legname mi servirà un carpentiere ma posso usare i vostri è tutto qui per ora ti dirò se mi serve altro ma comunque i capelli sono incredibili cioè i capelli sono una cosa incredibile le arrivano praticamente al ginocchio cioè lei se si scioglie sti capelli può fare veramente farra per onzolo di praticamente in realtà era una scusa per guardarle il culo però non diciamola a nessuno a che punto siamo ci siamo quasi Mid figlia di Seed cugina di Feed sorella di Reed e poi tra l'altro è vero questa è una bella cosa che stavo notando ovvero il fatto che la figlia di Seed come in praticamente tutti i Seed è un ingegnere o comunque qualcuna che si occupa di costruzioni tutti i Seed nei vari Fan of Fantasy a parte qualcuno tipo nel 15 anche perché poi c'era Seed Kramer anche nell'otto che era preside per esempio non era un fabbro però se consideriamo Seed Highwind del 7 Seed di Final Fantasy 4 loro per esempio uno era un fabbro e l'altro era praticamente un diciamo uno studio cioè oddio Seed Highwind era un pilota di aeronavi però al tempo stesso si costruiva le cose da solo mi chiedevo dove fossi finito Mide è tornato dal Camber l'hai vista? si poco fa intende aprire un laboratorio nel magazzino poi nel 9 Seed era il re di Lindblom ma ha costruito le aeronavi ha costruito l'ildagarde quindi diciamo che bene o male l'orma è quella sì di potermi procurare tutto tutto qui non sarei un mercante se non potessi perfetto per il pagamento già pagato quello che ha fatto la ragazza vale 100 volte tanto se non fosse per i suoi filtri berremmo solo acqua della piaga il che ci avrebbe prosciugato la vita molto tempo fa sì è vero manderò la roba a Mide appena arriverà grazie Karon beh sì diciamo che diciamo che comunque se intendiamo Seed come un costruttore di qualcosa il concetto è quello perché qui Seed ha costruito per esempio la ribellione i rifugiati Seed di Final Fantasy VIII ha costruito il Garden quindi permettendo praticamente a tutti di appunto di diciamo di avere un rifugio quindi ha costruito il Garden Seed Iguind ha costruito il Tiny Bronco che poi era un progetto combinato con la Shinra Seed del 4 ha costruito praticamente tutto quello che era a disposizione di Cecil e il resto quindi l'unico Seed che non c'entra un cazzo è quello del 15 che era tipo un soldato no aspetta Seed del 15 no lo sto confondendo Seed del 15 ah no quelli erano Biggs e Wedge mi vuole allestire un laboratorio vero li ho confusi mi piacerebbe aiutare la signorina come posso ma temo di essere fin troppo impegnato a tenere in piedi questo posto ci sono buchi da riparare ovunque e se non li chiudo finiremo per affondare tutti in acqua dedicherai volentieri a Mid il tempo che mi avanza ma la triste verità è che Seed nel 15 era il meccanico era il padre di quella gnoccolona incredibili ma non devo per forza essere io che ne dici di quell'altro sai quel tizio che sta al rifugio di Marta Bernard no lo conosco e in più sostiene la causa chiederò a Marta i suoi servizi grazie Bardolph si perché i soldati dell'esercito erano appunto Biggs e Wedge non Seed Seed è il meccanico che si vede all'inizio ok quindi dobbiamo andare al rifugio di Marta ciao Marta dove è Bernard eh Bernard non c'è ah Clive cosa ti porta al mio rifugio casa nostra avrebbe bisogno di un carpintiere in più mi chiedevo se potessi prestarmi Bernard per un po' se lui vuole certo siamo amici qui grazie Marta sai dove trovarlo è andato a Cressida per fare affari non so perché però sono solo rovine da quel che so deve essere ancora lì andrò a cercarlo ecco lo sapevo io queste sono le classiche robe oddio qua è tutto anche se mi teletrasporto qua cambia poco è il classico acchiappa la talpa praticamente è vero ci abbiamo il ciocobo approfittiamone pronta bella vola ambrosia me la faccio io la musichetta zoote pac Attack ановia papay way papay papay pop ecco e di là ci sono già dei mostri l'uomo che mi ha salvato la vita cosa ti porta in un posto simile tu bernard martha mi ha detto che eri qui ho una proposta per te ma davvero creare un laboratorio di certo è meglio che inchiodare assie ai punti e se a marta non dispiace che mi assenti per un po va bene dimmi dove ti servo così mi piaci io non è che prima potrei chiederti eccoci ma certo quella che vedi è crescita la mia casa le tombe dei miei genitori si trovano lì speravo di andare da loro ho anche sistemato il ponte per arrivarci ma poi ho scoperto che il luogo brulica di mostri ecco qua ma tu sei un vero esperto nell'occuparti di bestie mostri no non è che potresti direi che il minimo grazie infinite sta attento ok ecco sì 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 vogliamo trovare un po di titano allora vi faccio vedere il pari vediamo se mi funziona eccolo qua io la ruda un cazzo non lo prende oh sì oddio madonna sì 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 si incomincia con i perni oh sì 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 yes 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 duro come la roccia aia vieni 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 eccoci qua eccoci qua adesso con i perry ci divertiamo ora ci divertiamo con i berri ora ci divertiamo ecco fatto sarebbe stato figo se da un lato si fossero combinati anche gli attacchi c'è tipo nel senso che tipo per esempio faccio il tornado questo qua di gruda utilizzo un attacco di fuoco e diventa tipo un tornato infuocato tipo una roba del genere peccato che non ci siano queste combinazioni di elementi e diciamo il gioco elementale che sarebbe stato figo secondo me soltanto un disastro l'ultimo carro se ne è andato quasi un decennio fa il tempo le ha fatto male è una rovina non è la crescita che ricordo mi spiace o tipo combinare esattamente aria e terra no che faccio tipo il tornado d'aria e poi con la terra diventa tipo più forte una preghiera per chi mi ha cresciuto e andrò al tuo rifugio ci vediamo secondo me sarebbero state delle piccole chicche in più che chissà magari vedremo in fantasy 17 ora la lista di vita è conclusa meglio tornare al rifugio sì assolutamente sì torniamo al rifugio d'altronde si va solo che a migliorare qui piccoletti mi hanno combinato non è meglio se ti riposi un po si tieni bene clive tutto fatto certo ho comunicato i tuoi ordini e un carpentiere di nome bernard arriverà dal rifugio di marta fantastico ti ringrazio per caso ti serve qualcos'altro no black torn e lady caron hanno già mandato tutto e ho già disegnato tutti i progetti appena arriva bernard incomincieremo non vedo l'ora oddio però un pochettino ce l'ha di benedicta io ho paura che veramente possa essere la figlia di sid benedicta ma non lo so non credo soffio della terra pugno possente riduce di tre secondi il tempo di ricarica di pugno possente è questo è figo ma io volevo vedere se effettivamente ecco questi sono pugni furiosi quindi no pugno possente niente abbastanza oddio stagione nuove side quest nuove side quest nuove side quest oddio una side quest è dentro l'infermeria e allora ci entriamo dopo prima che mi parte il filmato allora prima andiamo aspetta cos'è che se mi a nuovi progetti da black thor non mi aspettavo che tornassi così presto una preghiera per i via giovani medaglione del chiarico più uno che non mi interessa allora prima di prendere la side quest andiamo a vedere i progetti nuovi anche carlo si è aggiornata sì anche caro non si è aggiornato bene 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 cosa posso fare per te e credo si dica irrefrenabile e la ragazza non si lascia battere da nulla questo è certo riesce sempre a far sì che tutti gli altri si alzino e ballino al suo ritmo direi che ce l'hanno nel sangue se non sapessi come stanno davvero le cose non vedo l'ora di scoprire quale tipo di assurdo parchi ingegno si inventerà la prossima volta a patto che non cerchi di convincere me a costruirlo per lei ok spada di plano che sia vabbè hanno aggiornato ok tu invece quella ragazza è una tempesta estiva arrivo quando meno te l'aspetta inzuppandoti fino alle ossa e lasciandoti lì a strizzarti vestiti proprio come suo padre beh ci tiene sul chi vive macina e quando sollevo i suoi pugni sotto di essi non risto che polvere mi ricordo tantissimo la ultima weapon di mi ricordo tantissimo la ultima weapon di final fantasy 12 quest'arma cioè almeno da quello che ho visto esteticamente vediamo ah no vabbè ok sì è la classica arma però con sì però con diciamo il rifacimento di di titano però da come mi sembrava l'impugnatura mi sembrava tantissimo la ultima weapon di final fantasy 12 inoltre ci sta il fatto che li possa schippare di aria come stagi in ripresa ma le serve ancora riposo ma certo prenditi cura di lei farò il possibile uh quindi scopriamo anche torgal ok questo lo dobbiamo vedere per forza però prima però c'è scritto anche che somiglia un eikon clive ma dove sei stato io volevo chiederti una cosa su torgal dove l'hai trovato cioè la prima volta dico mio padre l'ha portato da una spedizione nei territori settentrionali attraversavano un campo innevato hanno udito il suo pianto e non vedendo il branco l'hanno preso ma vedi il campo innevato tu che ne pensi biblio tutto questo avvalora la mia teoria clive io suppongo che torgal non sia un semplice segugio bensì un raro lupo dei ghiacci un animale selvaggio originario dell'estremo nord di valistea in uno dei nostri vecchi bestiari tempo fa lessi di un lupo dei ghiacci che faceva da guardiano per un'antica regina del nord e la sua padronanza dell'etere era tale da poter lanciare magie a comando il suo nome ferrir hai visto lo avevo detto io ora negli annali non è riportato chiaramente ma io ho motivo di credere che tale regina fosse una dominante di sciva una ragazza settentrionale e il suo fedele segugio una si risveglia come la dominante di sciva mentre l'altro dunque gil ad aver dato a torga gli suoi poteri che cosa come ferrir per tutti è il mio segugio ma lui e gila sono sempre stati inseparabili è cresciuto come fedele compagno della dominante di sciva e anni dopo no vedi ecco perché quando la sua padrona aveva più bisogno di lui hai ragione se non fosse stato torga la mandare quei bastardi all'altro mondo gil ci sarebbe rimasta giusto però il potere di torga è suo soltanto è il suo retaggio di lupo dei ghiacci andava solo sbloccato ah ma guardati torga sei anche migliore di quanto pensassimo per quanto riguarda il tuo crucio iniziale non temere per la salute di torga insomma mangia quanto un behemoth proprio stamattina l'ho trovato con il muso in mezzo alle mie nuci mangia quanto un behemoth tra l'altro behemoth ancora non ne abbiamo trovati in giro eh eccoti qua ti ho cercato ovunque c'è Bernard? presentamelo così iniziamo a lavorare torno tra un attimo l'unica cosa che posso criticare sinceramente su Final Fantasy XVI sono le animazioni facciali purtroppo si vede che non sono fatte in motion capture e sono digitalizzate al computer e perde tanto l'espressività del gioco su questo God of War era un esempio lampante di come il motion capture rendeva il tutto più immersivo qui purtroppo un po' si perde perché se ci fosse stato il motion capture qui sarebbe stato veramente un capolavoro incredibile anche di espressività proprio dei personaggi sì purtroppo sì ormai c'è uno standard talmente elevato che purtroppo alla minima cosa sono pronti a spalarti la merda addosso quindi per questo un po' mi dispiace perché sicuramente ci saranno tantissime critiche su questo sul fatto che comunque non ci sia da motion capture Final Fantasy XVI verrà criticato tantissimo secondo me se già non è stato criticato da tanti altri mi aspetterò sicuramente qualche commento comunque qualche critica per questo e sinceramente non posso non essere in disaccordo però diciamo che si è visto anche molto peggio negli anni passati per cui come procede la caccia a Kupka gli stiamo girando intorno abbiamo svariati avvistamenti di strani soldati in luoghi inaspettati ma ancora niente di definitivo se solo fossimo sicuri della strada che ha preso da Rosalith bene avanti così sei l'unica che può risolvere questo enigma attenderò tutto il tempo necessario cioè stiamo andando alla ricerca di Kupka nonostante tutto come? qui? perché? è forse un problema sai Clive credo che tu non abbia la pietà che contraddistingueva tuo padre i tuoi sudditi vivrebbero sicuramente nella paura su questo non hai niente da temere non rivendicherò altro no è un vero sollievo? ehi Clive hai un minuto? abbiamo un ospite un ospite? e chi è? ci ha ragazzito? ecco